Da Radio Roma, la radio dei VIP, incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo, in un programma esclusivo di Antonello De Pierro, con la regia di Sandro Alessi. Però prima vorrei aprire una piccola parentesi, prima di lasciare la linea a Valeria e tutto quanto, perché a proprio due minuti abbiamo di tempo per poter parlare di questa cosa, poi l'approfondiremo nel corso delle prossime puntate, poi con Italy Media, il portale di cui sono direttore e di cui tra l'altro Valeria è capo redattore, praticamente abbiamo avuto molte segnalazioni per quanto riguarda alcuni uffici postali che non rispetterebbero gli orari di ufficio, di apertura e di chiusura, soprattutto di chiusura. Nel caso specifico, dato che molte segnalazioni venivano da quella zona, appunto, dalla posta centrale di Acilia, che dovrebbe chiudere, gli uffici dovrebbero chiudere le ore 19, e praticamente mi sono recato personalmente per verificare la veridicità di queste segnalazioni, sia come Radio Roma, che poi potete continuare anche a scriverci all'indirizzo radioromachioccioitalimedia.it e se no altre segnalazioni, sono arrivate proprio con la mia email personale come lettera al direttore, per quanto riguarda la posta di Acilia, io mi sono recato in questo posto, questo posto che sarebbe l'ufficio postale, la posta, scusate l'accostamento di parole, praticamente sono entrato alle 19, meno 12 minuti e non ho trovato, praticamente non mi hanno dato più il numero, praticamente mi è uscito un numero, un cartellino, un bigliettino, dove diceva appunto il servizio non è attivo. Io l'ho interpretato come una interruzione di pubblico servizio, anche se quelli degli impiegati postali sono affrettati a dire che loro non svolgono pubblico servizio in quanto sono privati, immaginiamo chiaramente una farmacista, visto che è privata, chiude e apre la farmacia quando vuole, chiaramente, oppure lo stesso dottor Finucci, magari che fa parte di un'azienda sanitaria, appunto dipende di un'azienda sanitaria, privata, privatizzata, che magari va via quando vuole, entra quando vuole, oggi non visito perché tanto sono privato. Mi sembra veramente, con pure l'autista dell'Atac, per esempio della Trambus adesso, che a un certo punto decide io alle 19 devo finire, però sono in ritardo, lascio l'autobus così e me ne vado a casa. Veramente è una cosa completamente, diciamo, che lascia sicuramente il tempo che trova appunto questa dichiarazione. Comunque io mi sono regato lo stesso allo sportello e praticamente non sono stato servito in quanto mi hanno detto che non avevo più il numero. Io mi sono opposto a questa cosa, chiaramente, tra l'altro ho chiesto l'intervento dei carabineri, visto che la direttrice non ha voluto darmi spiegazioni, neanche se mi ha fornito il numero identificativo, che invece è un obbligo appunto ai sensi della legge sulla trasparenza, appunto la 241, mentre l'impiegata allo sportello mi ha fatto vedere questo cartellino con questo numero identificativo che ho appunto annotato e ho chiesto l'intervento dei carabinieri ed è partita questa denuncia. Giustamente se avete problemi di questo tipo segnalatecelo sicuramente a Radio Roma Chioccio, italimedia.it, è una battaglia che cercheremo di portare avanti sicuramente per garantire all'utenza appunto delle poste italiane sicuramente un orario fisso proprio per potersi regolare. Non è che io arrivo alle 18, magari quel giorno c'è più gente e alle 18 non posso entrare, non posso essere servito, non posso svolgere appunto l'operazione che urge insomma per quanto riguarda la mia situazione oppure la situazione di qualsiasi altra persona. Perciò diciamo che è una cosa molto importante, diciamo che questa è una battaglia che porteremo sicuramente avanti, io sento dei ritorni in cuffia un po' strani, chiedo alla regia delucidazioni su questa cosa, sicuramente cercheremo, poi tra l'altro io ho chiesto all'ufficio stampa appunto delle poste italiane appunto di poter avere un intervento in trasmissione appunto in base a questo argomento, però oggi di sabato purtroppo dalle 16 alle 18 non era possibile avere nessuna voce appunto che potesse rappresentare le poste italiane e potesse rappresentare le ragioni appunto di questa situazione che sembra una prassi ormai appunto negli uffici postali. Però in Dulcis in funto voglio segnalare invece la grande disponibilità, invece grande correttezza professionale da parte degli operatori invece dell'ufficio postale di Via Jenner, dove io poi ho portato il bollettino a pagare il giorno dopo, dove ho trovato una grande professionalità sicuramente. Via Jenner c'è un ufficio postale appunto che invece rispetta perfettamente le regole, questo a rigore del vero bisogna assolutamente dirlo. Bene a questo punto siamo in chiusura. Da Radio Roma la radio dei VIP, incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo in un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Radio Roma Radio Roma